musica 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 boh io ho cominciato a fare filmato per cercare di capirci qualcosa stanno a ricaricare acqua ricaricare musica 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 Comedy Sì, c'è il cuore! Cioè il profumo ci senti, si senti un odore forte di carne nella strada Mi sa che ha cucinato tutto! Dopo la cucinava queste due trefettine ha sbambato tutto, sbambato! La cosa impressionante è il numero dei camion che sono arrivati dalle vigili È ok, è ok Magicamente è fatto che questi locali sono pure edifici comunque, raga, vecchi Perciò alcune strutture degli edifici sono fatti in legno Perciò è molto semplice che prenda fuoco E quel quadro come sono attaccati uno con l'altro Perciò immaginate il casino che succede, se ne prende fuoco uno Ecco questo, ecco il motivo perché guardate là quanti ne sono arrivati Era dopo la televisione giapponese, arriva Comunque niente è successo All'istante ha preso credo fuoco una delle zone del ristorante Ma non è che sia un incendio vasto, però automaticamente hanno armato tutto È finito tutto, hanno fatto 30 minuti, hanno spento, hanno disattivato l'allarme, è posto Però la massiccia risposta è impressionante, oh Impressionante perché le risposte hanno così grossi Qua Sono preso, sono preso anche da questa qua, eccovi qua Ragazzi avevo detto, quello che capita se io mi trovo è, lo filmo e lo condivido con voi Perché è bello vedere anche cose del genere, questo a me dà sicurezza Poi logicamente cosa può succedere, può succedere Negative, positive, questo giro sono stati velocissimi, non si può di niente Non si può andar passare indikan Ma questa è un capo di a ragazz III Eccolo negativo Noirà Non si può benchare Noirà Lascia